Prosegue l'escalation di atti di protesta nei confronti dell'As di Salerno. Lunedì, Guglielmo Loreto, ex dipendente di una società che fornisce servizi all'ospedale di Salerno, dinanzi al Ruggi, inizierà lo sciopero della fame contro i disservizi e le ipotesi di chiusura dei reparti degli ospedali della provincia di Salerno. Dopo Luca Sansone, che da tre giorni è incatenato dinanzi all'ospedale di Eboli e ha iniziato lo sciopero della fame, si aggiunge la protesta di Guglielmo Loreto. Questa protesta nasce con l'intento di portare a conoscenza l'opinione pubblica e il governo centrale, in particolar modo, del modus operante dell'azienda EPM e dell'allora committente ospedale Ruggi di Salerno. Quando dico modus operante intendo atteggiamenti poco comprensibili e chiari. Giustamente per elencarli tutti ci vorrebbe una giornata intera. Ecco, brevemente. Brevemente posso citare la sanificazione durante l'emergenza Covid, che a me risulta che una singola persona se ne sia occupata, e quest'ultimo dipendente dell'EPM, addirittura risultava essere in servizio 24 ore su 24, dormendo persino in ospedale, per più di 55 giorni. Sì. E una mia deduzione del perché accadeva questo è che probabilmente la direzione generale ha approfittato di questa situazione, di questa emergenza, per accontentare i propri amici e magari anche se stessi. Ecco, lei chiede l'intervento di qualcuno, di qualche responsabile a livello regionale, della magistratura. Lunedì ci ha detto che inizia questa protesta e farà anche lo sciopero della fame. Un po' segue quello che sta accadendo ad Eboli, con l'altro dipendente di una società sempre che forniva servizi per l'ospedale di Eboli, che da qualche giorno si è incatenato lì e ha iniziato lo sciopero della fame. Ormai con queste cooperative i problemi non appartengono solo e semplicemente all'ospedale di Empoli oppure quello là di Salerno dove io andrò a protestare, ma mi sembra che proprio la ditta di EPM sta creando problemi pure sull'asla Napoli 1. Non voglio interventi di politici regionali, perché a mio avviso secondo me non possono risolvere la causa, ma bensì come ho citato prima io chiedo l'intervento del governo centrale, perché secondo me fin quando la cosa rimane in regione viene tutto tappato. E lo dimostra proprio il fatto dello sciopero che sta facendo il signore sull'ospedale di Eboli, in quanto da quello che mi ha dato di sapere tramite notizie giornalistiche ha iniziato anche lui una sorta di sciopero da circa 3 o 4 giorni, nessuno ci è presentato e la cosa non è diventata di clamore nazionale.